L'amico Simone mi parla di verità, di illusione e di libertà. E qui è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video, sono tre temi bellissimi, ti leggo la sua domanda. Nel frattempo, sentiti libero, libera di lasciare un commento, condividere, affinché possiamo... Possiamo. L'importanza di ritrovare la verità. E' bene non diventare matti, ma smettere di vivere nell'illusione permette di essere liberi per davvero la verità. Si rende conto che conoscere la verità rispetto a qualcosa significa conoscere come quella cosa funziona. Questa è la considerazione di Simone. Gli faccio una domanda e gli dico, puoi smettere di vivere nell'illusione sulla terra? E Simone dice, non puoi smettere completamente di vivere nell'illusione, ma puoi puntare a quello come traguardo, quello di liberarti dall'illusione del Maya. E libertà, gli dico, fino a quando hai attaccamento al corpo, puoi essere libero. E Simone dice, il nostro corpo ci permette un buon grado di libertà. Certamente, più libertà di un animale, di un gatto, i gatti non suonano la chitarra. Allora, primo punto, l'attaccamento al corpo, l'attaccamento alle tue convinzioni, l'attaccamento alla vita, alle persone, alle cose, alle credenze, alla tua personalità, al tuo ego, ti impedisce di dissolverti e di passare ad una nuova frequenza, la frequenza del tutto, del nulla, che magari nemmeno quella è la verità, è solo semplicemente un'altra frequenza. Dai miei viaggi spirituali nel mondo invisibile mi sono reso conto che dopo ogni comprensione c'era un'altra comprensione. È una sorta di matrioska. Quando pensi, anche io avevo questa grande illusione di riuscire ad arrivare alla verità. Ed ecco, ci deve essere una verità. Ci deve essere una verità. Ma la verità implica la menzogna. Quindi, ancora una volta, siamo nel mondo della frequenza duale. Se c'è una verità è perché c'è una menzogna. Sicché stiamo ancora ragionando nella frequenza del due, nella frequenza della dualità. E quindi, puoi trascendere la frequenza del due e passare a una nuova frequenza. Passi a una nuova frequenza con una nuova realtà, che potrebbe essere la frequenza dell'uno. La frequenza dell'uno è la frequenza del tutto e del nulla. Che coesistono tutto e nulla alla stessa identica cosa. Dove l'inizio è la fine. C'era un bellissimo passaggio di Gesù che diceva Quando conoscerai l'inizio avrai scoperto la fine. Perché nella frequenza dell'uno non c'è inizio, non c'è fine. Coincidono. Però è un'altra frequenza. È la frequenza dell'uno. È la verità. È un'altra dimensione. Delle possibilità infinite. Quando passi a quella frequenza, personalmente vissuta, la dissoluzione, a quel punto viaggi su altre frequenze e hai altre comprensioni, altre questioni, altre verità. Quindi la ricerca della verità, la verità, perché così come ce l'hanno venduta, in realtà è un'illusione. Quindi la verità in realtà è una illusione. Però mi rendo conto che c'è stata venduta questa cosa, come il giusto cammino. Come se ce ne fosse uno. In realtà non ce n'è nessuno. O ci sono tutti giusti. Nessun cammino è giusto, tutti i cammini sono giusti. Però ci hanno venduto questa cosa del più, del meno. Di andare nella direzione del bene. Ok? Del giusto, del corretto, della verità. Quindi smettere di vivere nella illusione. Perché? Perché smettere di vivere nell'illusione? Potresti accettare semplicemente l'illusione. Il film Matrix ha un po' condotto le persone un po' fuori rotta. Nel senso che molte persone pensano di essere illuminate, di aver raggiunto la comprensione totale, di aver dissolto il Matrix. In realtà sono semplicemente finiti in un altro Matrix. Da un Matrix sono salite e entrate dentro un altro Matrix. Ma le persone hanno questa sorta di convinzione nei giorni nostri. Hanno detto, sì, c'è una illusione. Guarda che caproni che vivono nell'illusione. Guarda, sono tutti ipnotizzati. In realtà, tutti vivono in una grande illusione. Una illusione o l'altra. E dov'è il problema di vivere nell'illusione? Come ad esempio le persone che dicono, vivi nel mondo virtuale, lascia stare quel cellulare che vivi nella realtà virtuale. Come se la realtà che viviamo, quella di fuori del cellulare, sia una realtà reale. E' presente lo specchio che guarda l'altro specchio? L'infinito. L'illusione che guarda l'illusione. Va bene, con questo è tutto, alcune riflessioni. Noi ci vediamo in un prossimo video, prossimo audio, prossimo post. Ciao, ma che male c'è a vivere nell'illusione? Basta che te la godi. Il punto non è dire, devo uscire dall'illusione, devo trovare la verità. No, è godersela. E' una illusione fantastica, me la godo. Me la godo questa illusione. Da Luca Luna è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.